Inaugurata alla Lega Navale di Crotone la mostra fotografica di crotografia, frame, fotogrammi visionari. Da Caravaggio a Botticelli, passando per Michelangelo e Leonardo da Vinci, 24 scatti, 24 tematiche diverse con lo stesso obiettivo, celebrare la bellezza del mondo e creare un'esperienza visiva indimenticabile per i visitatori. Di visionario ci sono i crotografi, così chiamiamo i soci del gruppo, che si sono inventati un quadro per riportare in fotografia un tema. La cosa sembra che sia riuscita molto bene, molto visionaria. Ci sono emozioni, c'è l'anima di chi si è studiato il proprio quadro e chi poi l'ha messo in opera. Ma oltre alle emozioni io spero che possa trasparire anche tutto il divertimento che c'è stato durante la realizzazione degli scatti. Perché sì, le tematiche sono serie, sono tematiche sociali importanti, ma ci siamo divertiti da morire a fare gruppo e a scattare le foto. Noi ci mettiamo, ogni volta che mostriamo qualcosa di noi, ci mettiamo in gioco. Quindi poi il confronto con la popolazione, con chi osserva, è l'adrenalina che ci fa continuare a fare le cose. Se le cose piacciono è un motore per andare avanti. Diversi e tutti di grande rilevanza sociale i temi affrontati, tra cui la salute, il cambiamento climatico, le migrazioni, la diversità, l'omosessualità, la libertà, le malattie silenziose e molti altri ancora. Ci sono talenti e sicuramente ci sono dei racconti personali, racconti di parenti, sensazioni, tematiche mondiali che ascoltiamo tutti i giorni. Perché il problema è che dovremmo ascoltare un po' di più, dovremmo cercare di far modo che la fotografia sia una memoria perenne. Quindi è quello che abbiamo cercato di fare, trattare temi sociali su opere molto famose, perché uno magari la ricorda e associare l'opera famosa con un tema sociale è sicuramente un modo per ricordare. Cosa significa per Giovanna Semerano questa mostra? È un altro tassello che inserisco nel mio percorso artistico. Mentre prima magari camminavo da sola, adesso lo condivido con tanti e quindi è bello. Una mostra ideata per celebrare la bellezza della vita e dell'arte come antidoto alla monotonia e alla tristezza che spesso caratterizzano la società moderna.